Sì, sarà un'emozione unica, a me mi è mancata un po' la Serie A, però ripeto, vogliamo divertirci, ecco quest'anno non sarà un anno facile, abbiamo appena cominciato, ci sarà una campagna acquisti e tutto quanto, però io credo nella piazza, nei miei compagni e sono felice di farlo con questa società Benevento perché dal nulla umilmente siamo arrivati dove evidentemente siamo meritati di essere, ecco perché è stato un campionato lungo, sofferente, raggiungerlo tramite playoff è stato ancora più bello. Qual è stato il segreto della vostra promozione? Beh, la forza è l'umiltà e poi è chiaro, il gruppo alla fine aiuta sempre, ho visto dei ragazzi sempre ambiziosi, mai egoisti, quindi tutti volevamo raggiungere lo stesso obiettivo. E poi ecco, una società che ti fa lavorare bene, non ti fa mancare niente, è un mister tra i migliori in Serie B e quindi si sia meritato anche lui insieme a noi questa massima serie. A prossimo anno ci sarà il derby campano, come te lo aspetti, come te lo immagini? Beh, ho notato già giù a Benevento questo entusiasmo, non vedo l'ora che ci sia questo derby che comunque è amichevole, non è poi così tanto rivale, però non vediamo l'ora, al di là del Napoli ci saranno tante belle partite, stadi meravigliosi e tanta visibilità, quindi vogliamo sicuramente dimostrare la nostra forza. Grazie.